Allora, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato dall'amica Silvia Pagni. Passante per te e per i tuoi capelli. Beauty for you in via nazionale 58, scerne di Pineto. Bentornati cari amici dell'oroscopo musicale. Oggi il compleanno è pensato di uno dei più grandi compositori italiani, tra gli operisti dell'Ottocento più celebra. Oggi il compleanno è pensato di un'oroscopo musicale. L'Elisir d'Amore. Il 29 novembre del 1797 a Bergamo nasceva Gaetano Donizetti. Scrisse poco meno di 70 opere, oltre a numerose composizioni di musica sacra ed a camera. Le opere di Donizetti, oggi più sovente rappresentate nei teatri di tutto il mondo, sono L'Elisir d'Amore, Lucia di Lammermun e Don Pasquale. Nato da una famiglia di umile condizioni e molto povera, quindi di sei figli, padre guardiano al Monte dei Pegni, Andrea Donizetti, e madre tesitrice, Domenica Nava. Così come il fratello Giuseppe, anche egli futuro compositore, fu ammesso a frequentare le lezioni caricatevoli di musica tenute da Giovanna Simone Maier. Dimostrò ben presto un talento notevole. Riuscendo a rimediare alla modesta qualità della voce, era necessario svolgere egriciamente il servizio di cantore per poter proseguire i corsi gratuiti, con i progressi dello studio della musica. Conobbe Vincenzo Bellini e ne scrisse alla morte la messa da Requiem, che venne eseguita per la prima volta solo nel 1870 nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Fu proprio Maier ad aprire all'allievo prediletto le possibilità di successo, curandone prima la formazione e affidandolo poi alle cure di Stanislao Mattei. Donizetti esordì il 12 maggio del 1822 con La Zingara, opera semiseria sul libretto del Tottola. In sala era presente Vincenzo Bellini, che rimase ammirato della scrittura contrapuntistica, ma in seguito non ricambiò la stima profonda che Donizetti aveva per lui. Fu nel 1830 con l'Anna Bolena, scritta in solo i 30 giorni per il Teatro Carcano di Milano, che Donizetti ebbe il primo grande successo internazionale. Particolare e curioso, dopo il successo dell'Anna Bolena, Maier gli si rivolse chiamandolo maestro. Il rapporto di affetto e stima tra i due compositori rimase saldo fino alla morte. Di qui in poi la vita professionale di Gaetano Donizetti andò a gonfie vele, ma non mancarono i fiaschi. Intrecciati a vicende familiari che non gli risparmiarono nessun dolore, spesso proprio nei momenti di maggior gloria e successo. Nel 1822 divente direttore al Teatro San Carlo di Napoli, dove presentò ben 17 opere in prima esecuzione, fra cui il suo capolavoro, la Lucia di Lammermoor. La prima di questo grande capolavoro fu veramente un trionfo. L'Anno fu applaudito alla Fenice, ma fu anche molto sfortunato per la morte del padre, della madre e della seconda figlia. Due anni dopo sarebbero mancate anche la terza figlia e la moglie, che morì di colera il 30 luglio 1837. La sua tristezza traspare chiaramente dalle lettere inviate al cognato e all'intimo amico Antonio Toto Vasselli. Solo una settimana dopo la morte della moglie Donizetti scrive così O Toto mio, Toto mio, fa che il mio dolore trovi un eco nel tuo, perché ho bisogno di chi mi comprenda, io sarò infelice eternamente. Non scacciarmi, pensa che siamo soli sulla terra. O Toto, scrivimi per carità, per amore del tuo Gaetano, senza padre, senza madre, senza moglie, senza figli, per chi lavoro dunque. Tutto, tutto ho perduto. La sua tomba si trova nella Basilica Santa Maria Maggiore di Bergamo e anche oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Io vi auguro veramente un buon pomeriggio, vi abbraccio a tutti, ci sentiamo domani, ci vediamo domani. Ciao da me, Silvia Pagni. Ciao da me, Silvia Pagni.